Alessia Macari, la ciociara di avanti un altro, si aggiudica la prima edizione del grande fratello VIP, superando di un soffio 52% a 48% un lanciatissimo Gabriele Rossi, alla sua quarta nomination consecutiva. L'annuncio di Hilary Blasi arriva intorno a luna, dopo quasi quattro ore di diretta, seguito dai coriandoli che svolazzano in aria e dallo champagne del brindisi che viene portato a centro studio. Medaglia di bronzo per Valeria Marini, la grande favorita della vigilia, mentre si deve accontentare di quella di legno Stefano Bettarini, che chiude la sua travagliata corsa al quarto posto. È Laura Freddi a perdere la sfida al televoto che premia, invece, l'attore Gabriele Rossi. I quattro finalisti, a questo punto, vengono chiamati nella stanza delle sorprese e a ognuno viene chiesto di scegliere, e di nominare, chi tra loro non merita di vincere. I più votati sono Valeria Marini e Stefano Bettarini ed è la sorte a decidere che sarà proprio quest'ultimo ad andare al televoto. L'ex calciatore sceglie di mettersi in competizione con l'unico altro uomo della casa, convinto si tratti di una sfida più morbida. In realtà, sarà proprio Gabriele ad aggiudicarsi anche questo televoto e ad arrivare quantomeno tra i primi tre classificati. Rimasto in piedi, tocca adesso all'attore di Don Matteo decidere contro chi scontrarsi. La scelta ricade su Valeria, forse la vera favorita alla vittoria finale, che a fatica nasconde la delusione di essere stata nominata da uno dei più stretti compagni d'avventura. Seppur di poco, è ancora Gabriele ad aggiudicarsi la sfida la terza consecutiva e ad andare avanti, al duello finale con Alessia Macari. L'emozione percorre gli occhi dei due super finalisti, l'annuncio del vincitore viene, fatto in studio, alla presenza degli ex compagni di avventura. Dopo un attimo di suspense, ecco l'annuncio che si attende da quasi quattro ore, è Alessia la vincitrice di questo primo grande fratello VIP.